Una gara di sport è sempre il segno di ritorno alla normalità. Per Niardo, quella organizzata dalla Proloco, domenica 18 settembre, lo è in modo particolare perché unisce la parte del paese danneggiata dall'alluvione del Torrente Re alla sua montagna. È la 885 Niardo Crist San Giorgio Bisone, alla quale sono ammessi solo atleti di maggiorità, donne e uomini, tesserati alla FIDAL o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto. Quest'anno, più degli anni passati, vedere gente che si interessa allo sport nel comune di Niardo farebbe molto piacere sia a noi come Proloco che a tutti i cittadini perché comunque è vero la vicinanza c'è stata durante l'alluvione, continua a esserci anche in questo periodo, ma vedere che la gente si interessa anche alla parte sportiva all'interno del comune dà comunque delle soddisfazioni grandi. Lo sport è uno di quei settori dove ci si può muovere, dove non ci si ferma mai e Niardo è pronta anche quest'anno con la settima edizione a riproporre la 885. Visto il grande successo dell'anno scorso, che ha visto partecipi più di 80 atleti, abbiamo deciso di riproporla ancora, questa gara. I dati tecnici di questo percorso sono 8 chilometri circa per un dislivello di 1100 metri dal Crist fino a Montebisone. Il ritrovo è alle ore 8 presso la località del Crist. L'arrivo si trova in quota dove i partecipanti arriveranno all'arco con il logo della Valle dei Segni Mountain Cup. Il ristoro si troverà a valle dove verranno effettuate anche le premiazioni. La Niardo 885 a Crist e Bisone è sostenuta da un forte gruppo di volontari dall'amministrazione comunale di Niardo e dalla comunità montana che l'ha inserita nel circuito della Valle dei Segni Mountain Cup. Volontari che saranno lì ad aiutarci riguardano tutte le associazioni di Niardo, ad esempio la Protezione Civile, la Prolo Cognardo e Denti, ad esempio il Comune. La comunità montana ci sostegna a livello di sponsorizzazione con la promozione del nostro evento. Essendo manifestazione agonistica, la norma obbliga i partecipanti ad un tesseramento che ne comprovi l'assicurazione e le idonee condizioni fisiche per potervi partecipare. Questa edizione vede per la prima volta la nostra gara a livello competitivo e quindi obbliga tutti i partecipanti ad essere affiliati a livello di gara e di corsa, ad esempio CSX, Ayn, FIS. Nonostante l'alluvione il percorso non è stato interessato e se non alcune al piccole parti che sono state già liberate. Speriamo ci sia un gran numero di concorrenti di superare il record dell'anno passato. L'invito è quello a tutti i corridori professionisti di presentare l'iscrizione tramite il nostro sito o sulla mail info-prolocognardo.it o telefonare al numero che trovate sulle nostre social, Instagram, Facebook e appunto il sito internet. I giovani della Proloco che organizzano l'Aniardo 885 e Crist e San Giorgio Bisone sono gli stessi che in tanti hanno visto fortemente impegnati a spallare fango, liberare soglie di case, scantinati, garage, aiutare anziani e famiglie già dalle ore della notte dell'alluvione del Torrente Re tra 27 e 28 luglio e che non hanno mai smesso di aiutare il paese, anche raccogliendo fondi con lo scopo primario di portare aiuti immediati a chi ne aveva bisogno. Meritano dunque a pieno titolo che la loro manifestazione sia onorata dalla presenza di tanti atleti come segno di vera solidarietà offerta dallo sport.